Ciao ragazzi bentornati sul mio canale youtube, lo so sono mancato qualche giorno ma per una giusta causa, infatti ho provato diverse tattiche, diverse istruzioni, moduli, nello specifico sono arrivato secondo me a reinventare un po' questo che avete già visto probabilmente da Olli ma che mi sta dando tantissime soddisfazioni, quindi mettetevi comodi perché andiamo a vedere subito di che modulo si tratta e in più vi faccio vedere anche qualche immagine di gioco. Il modulo in questione è il 4-2-1-3, una formazione che per molti potrebbe sembrare simile al 4-3-3-4 e al 4-4-1-1 ma rispetto al primo modulo questa formazione qui ha due mediani puri cdc davanti alla difesa risultando più completa difensivamente, rispetto al 4-4-1-1 invece la posizione degli esterni è molto più avanzata, infatti abbiamo S e AD e questo ci aiuta tantissimo in fase di ripartenza per allargare l'azione quando dobbiamo appunto andare a fare male al nostro avversario. Una formazione che ad oggi sto trovando molto divertente da giocare che ci permette di poter fare tanti gol ma che ci permette di poter essere anche abbastanza coperti in fase difensiva andando a fare i giusti switch e rientrando con gli esterni offensivi a dare una mano alla fase difensiva appunto prima di prendere terzini, difensori eccetera. Andiamo a vedere quali sono le tattiche di questo modulo insieme chiaramente ai ruoli che gli ho dato, codice che vi lascio nel primo commento come al solito di questo video e come stile della costruzione manovra abbiamo passaggi corti. Passaggi corti e non contropiede perché con passaggi corti andiamo a favorire un duplice approccio con questa formazione sia una prima fase nella quale è possibile chiaramente ripartire molto rapidi in contropiede visto che i due esterni sono lì davanti e non li muove nessuno. Ma poi possiamo anche andare a fare un po' di manovra quindi possiamo fare un po' di giropalla, fare le nostre scalette dall'esterno verso l'interno, ritornare sul centrocampista che poi imbuca dentro verso gli esterni che si sono inseriti per cui la trovo molto più bilanciata con passaggi corti in maniera tale da evitare di dover sempre tirare troppo dritto per fare la nostra azione rischiando poi di perdere palla in delle zone dove la palla non va persa e quindi che poi ci espongono a problemi. Per quanto riguarda la linea difensiva utilizzo alta con 81 quindi una linea difensiva molto spregiudicata questo perché mi permette di poter avere l'utilizzo della trappola del fuorigioco in automatico da parte della CPU, un baricentro più alto quindi quando viene fatto del giropalla al limite della nostra area di rigore per favorirne il recupero e le nostre ripartenze ma comunque ci permette anche di poterci schiacciare bene infatti a difesa schierata riusciamo tranquillamente ad indireggiare e se facciamo la fase di contenimento con i due mediani i due difensori centrali li prendiamo solo in area di rigore. Andiamoci a vedere per bene i ruoli perché per quanto riguarda i ruoli come al solito il portiere abbiamo fuori dai pali con bilanciato questo per far sì che su eventuali contropiede lui sia sempre pronto ad essere chiamato fuori con il triangolo per uscire e sventare la minaccia. I due difensori centrali invece li utilizziamo con difensore plus plus questo perché voglio che i due difensori siano belli piantati all'interno dell'area di rigore e che non vadano troppo avanti in maniera tale da non essere colti poi in difetto a lasciare dei buchi inutili. Per quanto riguarda i due terzini facciamo un'analisi molto semplice andiamo a prendere il terzino più tecnico diciamo così e lo mettiamo su tornante in questo caso è il mio terzino di sinistra perché teo hernandez con bilanciato mi raccomando per evitare che vada troppo su vedete qui da un supporto ma non è un supporto eccessivo mentre per quanto riguarda l'altro terzino quello un po' più equilibrato lo lasciamo su terzino bilanciato in questo caso secondo c'è anche il plus plus come ruolo per cui è perfetto. Davanti la difesa abbiamo entrambi i centrocampisti di contenimento con difensivo e ovviamente difesa quindi abbiamo due mediani puri che come potete ben vedere fanno da schermo davanti la nostra linea dei difensori centrali e da lì non si muovono. Per quanto riguarda invece il trequartista andiamo ad applicare attaccante ombra con ruolo attacco questo perché il trequartista dopo l'ultima patch è migliorato tanto in termini di movimenti proprio con l'attaccante ombra ed è proprio questa istruzione questo ruolo che secondo me lo rende speciale perché riesce a fare degli ottimi inserimenti arrivando a ridosso dell'area di rigore e poter sparare anche delle belle trivele nel caso della puteias soprattutto con il suo piedemancino ma ovviamente quando ora abbiate un giocatore destro stessa cosa e poi a dare una mano tantissimo alla punta in area di rigore che così non si ritrova solo ma poi in fase offensiva risulta quasi per essere un attacco a due. Sui nostri due esterni invece abbiamo attaccante interno svaria a sinistra e attaccante interno svaria a destra perché svaria perché così non andiamo a dare dei punti di riferimento il nostro esterno andrà sì per vie laterali ma ciò non toglie che qualora vede lo spazio perché anche l'attaccante interno dopo l'ultima patch è stato migliorato in termini di movimenti riuscirà tranquillamente a andarsi inserire anche per vie interne. Quindi svaria per evitare questa cosa qui e assolutamente attaccante interno e non ala perché vogliamo che venga comunque a giocare con gli altri compagni e che non sia troppo isolato sull'esterno. Sulla nostra punta invece utilizziamo rapace con attacco in maniera tale che rimanga bella fissa al centro della nostra area di rigore ovviamente è possibile utilizzare anche qualora abbiate giocatori che hanno il ruolo plus o plus plus dell'attaccante avanzato l'attaccante avanzato visto che non cambia tantissimo tra i due ruoli. L'unico che ovviamente non andrei a utilizzare è falso 9 perché altrimenti andate a togliere la punta dall'area di rigore il trequartista già ce sta vi ritrovate con due punte fuori dall'area e due esterni che poi non sanno a chi scaricare quindi evitare assolutamente il falso 9 con questo modulo. Vi ripeto una formazione che secondo me si può utilizzare sia di contropiede che per far girare un po' il pallone e per quello che penso io ad oggi è una delle più divertenti visto che tanti vi cercano di fare possesso palla voi recuperate palla e vi andate in contropiede come vi faccio vedere adesso. Andiamoci a vedere queste tre situazioni che vi ho preparato qui ad esempio vediamo che io vado a recuperare subito palla alto con Sissoko e poi mi vado ad innescare la mia manovra mi vado a cercare l'esterno vado dentro sulla punta con un numero tiro poi vabbè sono fortunato nel rimpallo e vado a segnare. Però nasce tutto quanto da qui da questa palla che io vado a recuperare alto con il mio mediano vado ad innescare il trequartista vado sull'altro centrocampista che dovrebbero difendere ma in realtà fanno partire la manovra l'inserimento dell'attaccante interno che svaria dentro per la punta e poi sono fortunato nell'andare a concludere con questa deviazione. Andiamo a vedere quest'altra situazione questa è un'altra situazione dove invece vado a costruire la manovra come vi dicevo con dei passaggi corti quindi è l'attaccante che è il mio primo riferimento il giocatore su cui mi appoggio per poi scaricare vado ad affidare la palla a quello che è il mio terzino che va un po' più ad accompagnare la manovra che quello di sinistra la palla fuori sul mediano lo speed boost con Rafinha passo para il portiere recupero ancora il pallone vado di nuovo a riciclare la manovra. Torno da Matuidi il mio mediano che viene però ancora una volta a farmi gioco senza correre con molta karma poi mi innesco il trequartista vedo lo spazio vado dentro e butto la palla in porta questa qui invece è l'azione tipica da fare in contropiede recupero alto del pallone col terzino subito la palla che viene scaricata all'esterno mi vado a puntare l'area di rigore palla alla punta palla all'altro esterno e vado a segnare in maniera molto semplice. Ragazzoni anche per questo video è tutto come al solito vi esorto a lasciare un bel like e un commento fatemi sapere se proverete questo modulo se magari già lo stavate usando e se vi intriga vi ricordo che sono poi live tutti i giorni sulla piattaforma viola e a me non resta altro che augurarvi una buona giornata un saluto da i vostri peroschi e a presto ciao.